ciao a tutte ragazze video richiesta una ragazza di voi iscritta al mio canale mi ha richiesto di farli vedere tutti i colori di passione unghie che ovviamente io ho e quindi armatevi di pazienza perché ne ho veramente tanti in questo periodo a una parentesi la chiudo faccio pochissimi video perché comunque sia con le ferie lavoro tutto sono veramente incasinata quindi e faccio veramente pochissimi addirittura sospenderò mi sa fino alla fine di settembre vediamo un po come sono messa va bene iniziamo allora qui ho tutte la montagna dei colori che ho ovviamente non sono tutti i passioni c'è un po di tutto e vi faccio vedere quelli che ho allora partiamo con la rotella dei verdi e gialli di passione abbiamo questi due non è semplice visto che allora questi due gialloni tra questi due mi piace più questo questo qui pure sta essendo un fast non è che mi garbi un gran che però insomma sono qui per farveli semplicemente vedere quindi andiamo avanti poi sempre nella stessa rotella abbiamo las vegas bellissimo kenia poi vediamo un po che c'è andando avanti giallo pastello poi abbiamo minions questo è molto carino poi vediamo un po passiamo al verde e abbiamo le f 45 flulemon f 46 ovviamente devo scattare quelli non poi abbiamo questi tre california dream le monade e antigua vediamo un po cosa c'è qui ne ho veramente tanti di passione abbiamo questi barbados esotic aloe lime fluo e verde pastello questo è meraviglioso ok e questo è ciò che ho sulla rotellina gialla verde mi manca qualcosa mi mancano i verdi scuri aspettate perché farvele vedere tutti non è molto semplice ci sono sempre eccoli qua c'ho green flash e mojito ho fatto che le ho tutti insieme però ne ho ancora vediamo un po qua ok poi abbiamo fantasy esmeralda glitter andiamo oltre allora cerco di farvi rivedere il più possibile insieme almeno così facciamo prima eccoli qua cuba armani green verde petrolio d'acne e costa rica sono molto simili a come vedete nella telecamera anzi identici proprio i verdi non sfalzano se Dio vuole ok e penso da vedere di farvi tutti poi passiamo la verde acqua e abbiamo questi eucalipto metal cometa maracaibo paradiso e malibu poi andando avanti riposizioniamo altri colori ma quanti ne ho veramente tanti e vi faccio vedere questi e vi faccio vedere questi Bahamas capri Hawaii tiffany milk mint caperigna e forest fire ok questo sarà un video lunghissimo perché ne ho veramente tanti vabbè che non interessa ovviamente vada oltre e poi questi infine che è pear green puert rico tortuga e persian green ok e anche questi verdi acqua li abbiamo fatti poi passiamo ai fucsia e rosa allora in questa rotella abbiamo lollipop rio e poi giove e venere ma si vedono abbastanza bene i colori eh io un pochino più acceso dal vivo poi abbiamo questi fluo passion rosa fluo questo com'è andromeda capirosca e sangria capirosca è bellissimo e infine questi due pink fluo glitter e rosa passion belli passiamo all'altra hotel del rosa bubble gum sky nude corallo pastello e coral pink mettiamo gli altri poi questi che è il lady flamingo petite rose petite e poi candy rosa pastello milkshake allora poi mystic rose quartz long beach trinidad magic dreams e sky pink e infine su questa rotella ho messo anche margarita, sirena, lowly fire, pearl pink, sweet e burlesque passiamo agli aranciati qui di passione ne ho davvero tanti alcuni sono questi devo far leggere anche il nome almeno così che non leggo che non leggo i primi due fu ego c'è scritto no tulip sono sovrapposti non ci leggo poi nemo mandarino pastello e tequila sunrise gli altri sono se riesco a metterveli insieme ok eccoli qua scan you della costa marigold amber gram fruit gram fruit c'è scritto sì corallo raspberry ed eccoli qua ecco ne altri orange fluo glitter e poi fluo papaya fluo pepper e questo è corallo fluo coco jambo papaya tropicana grignada no grenada ci leggo e martinica le faccio vedere così ve la vedete meglio ok e andiamo oltre gli ultimi di queste tonalità ne ho veramente tanti vediamo un po' cosa c'è qui di rimasto ok eccoli questi oro puro don perignon prosecco metal e fine works belli anche questi ok una parotella fatta poi si passa ai blu petrolio jungle eclisse laser blu e nettuno di qua c'è blu ice glitter snorkel snorkel blu blu di perci e royal blu poi ne ho altri eccoli qua ultramarine se riesco a metterveli così ok jeans zaffero galassia e brezza e per finire questi qua marte dark blue graffite bellissimo e zen blu ragazzi passione dei colori favolosi veramente favolosi poi continuando sempre con la età blu passiamo agli azzurri che vi faccio vedere subitissimo allora partiamo con questi eccoli qua dolfin blu accapulco serenity blueberry ischia e iris andiamo avanti e vediamo un po' cosa abbiamo quanti ne ho eccoci vi faccio vedere questi ok ed è pearl sky aruba panarea mallorca poi abbiamo questo che è limit limpet shell azzurro pastello e surf e infine gli ultimi di questa tonalità vediamo un po' cosa mi è rimasto da farvi vedere questi qua due acqua marina e saturno andiamo oltre e passiamo ai lilla e viola eccoli qua mallo mirto lilla green tokyo e urano questo meraviglioso avanti un altro anche così sono bellissimi che è il softberry pink fire beauty fire pretty fire orchidea e unique se si dice così insomma qui abbiamo ice cube marshmallow pearl violet questo è ice fire e lilla pastello e infine sempre su questa rotellina anche qua di viola ne ho veramente tanti mi manca il viola fluo che lo volevo prendere ma non c'è più non so perché al momento l'hanno tolto peccato perché quello che aveva il viola fluo è stupendo speriamo non facci modifiche strane di quel colore che lo uso a lavoro ed è stupendo abbiamo questi che è il vogue arabia night elettra new york night fire sono bellissimi e infine questi purple noire fucsia glitter sexy plum e limitless limitless se si dice così va bene vai anche qua l'abbiamo fatta siamo già a 17 minuti di video allora neri argenti e grigio qui si fa abbastanza presto abbiamo san lorenzo incantesimo optal optical silver che è meraviglioso e questo è stella cadente bellissimi e poi abbiamo questi tre rimasti bianco glitter bianco metal e oro bianco che a me questi colori non mi fanno per niente impazzire ma quando capita una sposina o una signora magari più succo l'età fan sempre comodo ma di certo a me non piacciono granché poi beige eccoli qua teso a fuoco ok abbiamo cuba libre nocciola belis cappuccino coffee questo fa veramente schifo gianduja grace e egitto anche questi molto belli tranne il coffee mamma mia signore oltre a stendersi malissimo che non copre è veramente brutto ok marroni grigi beige insomma finiti passiamo ai rossi che li vedrete praticamente tutti uguali perché in camera non è che si vede non granché bene partiamo contanto con questi spero che riusciate a vedere più o meno le tonalità più o meno comunque si parte Ferrari Red Diva Rosso Valentino Revenge Red Red Passion che è bellissimo e Rosso Glitter metto a fuoco poi praticamente i rossi li ho tutti di passione allora quale l'India Marrakesh Barcellona Empire Red Desiree Fiesta e Romance Continuiamo mi sono rimasti questi qui due da farvi vedere che è Sangue di Giuda e Brunello colori meravigliosi ci siamo ragazze siamo quasi alla fine ci sono i Tiger che ve le faccio vedere ma l'avrete già visti nell'altro video comunque mi sono stati chiesti tutti i colori di passione e io vi faccio vedere tutti i colori di passione che ho allora questi qua sono tutti i Tiger favolosi meravigliosi li adoro ok e abbiamo anche i termici che questi qui penso veramente di averceli tutti e ve le faccio vedere tanto mi sembra siano quasi tutti di di passione a parte alcuni ma insomma la maggior parte è tutto passione allora questi qui vi faccio vedere intanto se no faccio un casino Dubai poi abbiamo questo che non ci ho messo il nome ma ci ho messo solo il numerino il T14 Hollywood Broadway ragazzi cambia colore fantastico si vedono sono talmente calda che cambiano colore meraviglioso questo come vedete dal viola al fucsia quello dal rosa al latticinoso meraviglioso almeno vi faccio vedere anche il cambiamento Dubai dal viola fantastica questa cosa poi ho qui Iceland che ha questo colore e poi passa a questo più chiaro che a regola dovrebbe essere quello caldo questo che vedete adesso cioè sono più calda della temperatura esterna poi vediamo un po' abbiamo manatta colombia e brasil queste dovrebbero essere le colorazioni fredde vediamo le calde gialla rosso più acceso e questo va su fucsia andiamo oltre vediamo un po' abbiamo questi qua che sono questo lo faccio da parte se no mi riesce tenerlo in mano Enigma anche questo è da sul violaceo vediamo il cambio di colore eccolo poi abbiamo Ibiza cosmopolitan mocaccino e chatouche quindi chatouche mocaccino quando lo metto a fuoco wilder la piccherei come vedete una qualità un pochino più scura una più chiara poi cosmopolitan e Ibiza che va sul fucsia ok anche termo sono terminati e mi sono rimasti questi qui che praticamente sono quelli che si illuminano al buio quindi spring sprang spring insomma glow winter glow e summer glow poi ce n'era un altro mi sembra che non andava niente allora non mi ricordo come si chiama quindi non l'ho pigliato era quello rosso infatti l'ho tolto l'ho data alla mia amica che tanto lo usa come colore perché a me non piaceva ok ragazzi ho terminato il video è veramente lunghissimo quindi insomma chi è interessato lo guardi altrimenti insomma staccate prima capisco che insomma 25 minuti di colore dupalle vabbè ok spero che comunque sia vi fatto piacere alla ragazza che me l'ha chiesto l'ho fatto molto volentieri e al prossimo video un bacione ciao ciao